Domenica 20 novembre alle ore 21 andrà in scena l'ex cinemagiana nei locali di Sunspace lo spettacolo a proposito di donne, storie di donne che hanno insegnato al mondo. L'evento è organizzato dal gruppo Terziario Donna Confcommercio La Spezia e dall'Associazione Vittoria. Lo spettacolo, nato 5 anni fa, è stato presentato in tutta Italia riscuotendo grande successo. Oltre 13 mila gli spettatori paganti che hanno partecipato, 20 leattrici che interpreteranno le donne che nel corso della nostra storia sono riuscite con grande coraggio a dare valore alla figura femminile. In un contesto dove comunque la figura femminile viene sempre disegnata, quasi sempre, come conseguenziale a quella dell'uomo che è a fianco, L'idea era quella di raccontare le donne attraverso le donne, le donne che hanno nella loro vita fatto un qualcosa di importante da ricordare e così via. L'idea è quella di non fare un pupurri bibliografico assolutamente, ma ogni personaggio è il pretesto per raccontare un argomento. Quindi si va dal pregiudizio che racconterà Mia Martini alla facilità con la quale viene definita pazza, una persona come verrà raccontato da Alda Merini. L'evento che si inserisce tra le iniziative volte a celebrare la giornata del 25 novembre dedicata all'eliminazione della violenza contro le donne ha come obiettivo quello di sensibilizzare gli spettatori e la cittadinanza attraverso la cultura. Sì, come l'anno scorso abbiamo in programma degli eventi proprio per la settimana di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Questo al Sunspace ex-cinemadiana sarà il primo di alcuni eventi che abbiamo in programma. Si terrà al Sunspace, appunto ex-cinemadiana, domenica 20 novembre alle ore 21, ingresso libero, senza prenotazione. Ci sono vari progetti che Terziario Donne, insieme a Confcommercio, Fipe, hanno fatto in questi anni come sicurezza vera, in collaborazione con la questura, come con federalberghi, le stanze riservate alle donne che devono uscire di casa, di corsa, perché hanno subito violenza pesante e quindi vanno aiutate e tolte dalla loro casa. Lo spettacolo è gratuito e a ingresso libero non è necessaria la prenotazione.